Sono felice che tu sia uscita con me, solo per guardare le stelle. Io non volevo, ma avresti licenziato mio padre se non l'avessi fatto. E non siamo soli, c'è anche Boomer. Ciao, fratello! Le stelle sono proprio romantiche, eh? Scusa un attimo, Michela. Che cosa stai facendo qui? Non lo so, me ne stavo lì, in piazza, e lei mi ha detto di venire con voi. Lo sai, è davvero gentile, qualche volta dovreste uscire da soli. Secondo te che stavo cercando di fare? Allora non dovevo invitare anche Lenny e Mahuma a vedere le stelle? Che seratona, cugino. Potresti fare un grande favore a tuo fratello e togliermi di torno questa gente? Oh, ma certo. Lo spettacolo è finito, gente, lasciate solo mio fratello. Non temete, poi vi farò vedere il filmato. Dove eravamo rimasti? Pensi che questo sia un appuntamento? Ma certo, se no perché avrei portato i cracker? E invece non è un appuntamento. Sai perché non voglio uscire con te? Perché? Hai paura, forse? Non penso che saremmo una bella coppia. Sai, senza offesa, ma credo che tu sia il tipo che scappa davanti alle difficoltà. Io non scappo davanti alle difficoltà. Waka waka! Solo per questa volta scappo! Oh, ma, aiuto! Ogni re pensi a sé! Fazzoletto? Ok. E' un attimo. Ok. Ok. Ok.